Buongiorno a tutti, è giusto per presentarvi la squadra della decodata 2008-2009 Allora, vogliamo chiamare per primo sul palco per mettere il desiderio di tutti noi pilottari per la maglia e per se stesso anche nei momenti più difficili Signore e signore, per il numero 40 Buongiorno a tutti Tanta famme, voglio diventersi in evidenza Della Norvegia, parlo cedico della N100 Sanno per il gigante di Stoccolma Signore e signori, per il numero 41, patri... Buongiorno a tutti La scorsa stagione ha valutato la prossigliosa importunio a 21 anni e Lugano crede fortemente nelle sue potenzialità E figlio d'arte, a 79, è Fabrizio Conte E in colui che ha aperto la porta ai giocatori, i tuoi interini sono un hotel Quindi, a Lugano ci ha fatto chiudere la porta sul tiro degli avversari Lo aspettiamo quest'anno sui suoi migliori standard Signore e signori, con numero 29 Davine Eviscee Con pazienza e irregularità sta continuando la sua scena verso un po' lo stanno per la prima squadra, con il numero 11, Matteo Rodari. Ci ha castigato di varie volte, ma ora, in un cartone vicino sempre condiviso in guerra di televisione, ha fatto la scelta che un professionista, un campione, doveva fare. Signore e signore, con il numero 76, Matteo Rodari. Guidaårdata di varie volte, ma ora, in un cartone che un' un cartone di vista, un euro! Non lo ripreso, non lo ripreso che è fatta. Signore e signori, con il numero 99, Mario Coscovic. E' lui il primo a sapere che è lo scorso campionato, non ha soddisfatto le aspettative. E' un ragazzo sveglio che fa ciò che vuole, ma è un ragazzo sveglio che fa ciò che vuole. E' la sua esperienza. Il numero 5, Timon! Bravo, Timon! Rompi tutto! Timon, rompi tutto! Il capellone! Viene da Elisao. E' transitato l'Alessio che ha maturato un'importante esperienza in Nord America con il romaio Junior Blue Jackets. E' consapevole che il suo ruolo è il suo piede di riservo, ma è anche appiccioso. Signore e signori, con il numero 20, Pasquale Tenazzano! E' tutta buona stanza. E' tutta buona stanza... Con il suo tramito e il suo voto perpetua in grado di portare lo sconfigno a la dipenda. cuore, grinta e energie da vendere signor e signori con il numero 17 Tristan Corre un'altra preparazione estiva ha dato un'importante segnale sul suo valore ha dato un'importante segnale è un ragazzo che lavora con la mia